Buongiorno a tutti, ciao e benvenuti nell'atelier dell'italiano. La settimana passata io ero malata, sono stata ammalata, ma oggi vi vedo molto bene. E visto che molti d'entre voi mi hanno scritto e mi chiedono un buon ritaliano, ho pensato di dire oggi 5 modi per augurare Bon Rettablissement in Italiano. Allora parliamo di questi 5 modi, dal più formale al meno formale. Tout d'abord, se vous ne l'avez pas encore fait, je vais vite vous dire trois choses à faire. S'abonner à la chaîne, quindi iscrivervi al canale, scaricare il PDF gratuito, donc téléchargez mon PDF gratuit. Et si vous avez un peu de temps pour étudier un peu d'italien, est uscite le mio cours Italian Express, vous trouvez ici dans l'infobox toutes les informations. Ma vediamo questi 5 modi. Il primo, più formale, è tanti auguri di pronta guarigione. Pronta significa rapida, veloce, quindi tanti auguri è una frase che abbiamo già visto in molte occasioni, pronta guarigione, quindi di guérir vite. Un po' meno formale, possiamo anche dire semplicemente buona guarigione, buona guarigione. Passiamo dal nome guarigione al verbo, il verbo guarire, guérir. Il verbo guarire è come il verbo finire, je veux dire perché, pour le conjuguer, il faut faire comme dans finire, capire. Donc la première personne c'est «yo guarisco». Allora, qui usiamo un imperativo alla seconda persona, quindi possiamo dire «guarisci presto», «guarisci presto». Se questo verbo è un po' difficile, possiamo utilizzare una frase che personalmente è quella che io uso di più. Donc, normalement si j'ai un ami qui è un po' malade, je lui dis «rimettiti presto», «se remettre», «rimettersi», quindi «rimettiti presto». E per terminare, un'altra frase che uso abbastanza spesso, sempre un po' più informale, è «rimettiti presto in forma». Quindi «rimettiti presto in forma», la potete usare con un amico, ma è una frase che funziona benissimo per augurare a una persona malata di stare meglio presto. Très bien, ça sera tout pour aujourd'hui, un video corto, ma spero utile. Ciao e grazie!